ciao amici ciao a tutti ben ritrovati è davvero un po' che non ci vediamo è stato ed è ancora un periodo un po' complicato e quindi non sono riuscita a fare altri video sul canale ho dovuto dare priorità ad altre questioni personali ma anche professionali perché naturalmente dovevo proseguire il lavoro con il master di astro psicogeneologia e fare consulenza anche se purtroppo dovuto spostare molti appuntamenti anzi approfitto per scusarmi con tutte le persone che mi hanno scritto alle quali ancora non ho risposto nei prossimi giorni mi impegno a rispondere a tutti a fissare appuntamenti entro luglio per le consulenze individuali ho dovuto anche annullare un seminario di costellazioni purtroppo perché ero completamente bloccata non riuscivo proprio a muovermi e vi ricordo che il prossimo sarà invece il 23 di giugno quindi 23 giugno assolutamente cascasse il mondo ci sarà questo seminario di costellazioni familiari ad approccio immaginale a pavia quindi se siete interessati iscrivetemi come sempre roberta punto turcicchioccelagmail.com non potevo però non fare un video per parlare di giove in gemelli quindi questo video principalmente è dedicato al transito di giove in gemelli ma oggi è il 5 giugno quindi ieri 4 giugno c'è stato lo star point di venere ovvero la congiunzione sole venere poi vi spiego meglio comunque sul sul canale qui trovate altri video in cui parlo dello star point di venere addirittura c'è un video che ha una conferenza che avevo tenuto per il cida che è il primo incontro del modulo del percorso astrologico per fare anima dedicato a venere in cui parlo diffusamente della dello star point di venere e della rivoluzione di venere ma poi brevemente riprenderò questo discorso nel video e domani 6 giugno invece c'è la luna nuova in gemelli quindi con un mega stellium nel segno e il fatto che ci siano questi due eventi così vicini quindi in occasione del 9 luglio del 6 giugno sole e luna che sono sempre congiunti in occasione di un 9 luglio saranno anche congiunti a venere di fatto quindi ancora attiva la congiunzione del star point di venere ecco questi due eventi così vicini è come se enfatizzassero questa energia come se mettessero un'impronta un'impronta molto forte che è ovviamente coerente con il messaggio di giove in gemelli quindi adesso cercherò di essere poco tecnica in questo video di andare un po diretta al punto cioè quali sono i messaggi che giove ci vuole portare allora intanto giove è entrato nel segno dei gemelli il 26 maggio scorso e rimarrà nel segno dei gemelli fino al 9 giugno del 2025 sapete che giove ha un ciclo di 12 anni quindi rimane un anno in ogni segno giove è un archetipo associato al proposito al senso e al significato di quello che accade quindi il suo passaggio in un segno che corrisponde al suo passaggio in una determinata zona del nostro tema natale che quindi può occupare una o più case e può andare anche a toccare alcuni pianeti o angoli del cielo ecco il suo passaggio ha uno scopo ha uno scopo che è quello di farci crescere in un certo ambito di farci imparare qualcosa di nuovo di espandere i confini di ampliare l'orizzonte tra l'altro giove in gemelli appena entrato ha fatto subito un trigono con plutone in acquario quindi enfasi nei segni d'aria poi come dicevo c'è questo stellium in gemelli in particolare domani 6 giugno con il novilunio ci sarà anche la luna nel segno no e quindi con cosa a che fare questa crescita ci sono alcune parole chiave tra l'altro proprio coerentemente con questa enfasi nel segno dei gemelli nei segni d'aria con anche plutone in acquario io mi sento veramente sopraffatta da tantissime da tantissimi input quindi avrei tantissime cose da dire e mi auguro di riuscire insomma a mettere un po d'ordine in tutti questi in tutti questi pensieri in tutte queste idee allora le parole chiave sicuramente la prima che mi viene in mente comunicazione comunicazione cosa vuol dire sì vuol dire che aumenteranno gli scambi che aumenteranno gli spostamenti gli incontri ma soprattutto comunicazione mi fa pensare a uno il modo in cui usiamo le parole il modo in cui comunichiamo con gli altri ma anche soprattutto mi viene da dire il modo in cui comunichiamo con noi stessi il nostro dialogo interno quante volte sento le persone che ripetono continuamente le stesse parole ma da anni sento persone che ripetono le stesse parole e continuano ad autodefinirsi in un certo modo ad autodefinire la propria vita in un certo modo oppure che se la raccontano se la raccontano e non ascoltano magari ti parlano anche per chiederti un'opinione apparentemente o solo per avere approvazione ma in realtà non ascoltano e si raccontano e si auto ipnotizzano continuando a ripetere le stesse cose ovviamente lo facciamo un po tutti eh non è che mi chiamo fuori da questo però diciamo che ci sono persone che sono molto inconsapevoli e quindi lo fanno continuamente danneggiandosi tantissimo perché quello significa creare dei limiti significa chiudersi in un recinto e eh non darsi appunto la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva quindi quanto mi so ascoltare che vuol dire quanto sono consapevole del mio dialogo interno del mio chiacchiericcio interno ma quanto anche sono in grado di sentire veramente quello che provo come sto in in una determinata situazione e poi quanto sono capace di ascoltare gli altri ma le due cose sono collegate noi riusciamo ad ascoltare veramente gli altri quando abbiamo imparato ad ascoltare noi stessi e viceversa perché è sempre uno scambio la relazione con l'altro è sempre uno specchio della relazione con noi stessi e poi appunto come uso le parole come dico le cose si parla di scambi si parla quindi di confronti i gianelli sono un segno duale quindi c'è sempre anche la tematica del confronto così come anche della scelta e del discernimento quando parlo con un'altra persona e ho magari una opinione differente dovrei imparare e ne abbiamo l'occasione in questo periodo imparare che non c'è il giusto e lo sbagliato ci sono solo due punti di vista differenti allora quando ascolto l'altro devo evitare di partire dal presupposto che la mia visione sia quella giusta ma devo anche evitare perché spesso accade anche questo di idolatrare l'altro come accade per esempio nei confronti di alcuni maestri di alcuni insegnanti di alcune figure di riferimento perché gemelli è anche legato all'insegnamento quindi questo periodo anche un bellissimo periodo un momento ideale per iniziare a studiare qualcosa di nuovo per scegliere un nuovo percorso di studi per scegliere un insegnante ecco è importante anche chi scelgono cosa scelgo cosa scelgo di studiare a chi scelgo di affidarmi però anche importante usare sempre discernimento quando ascolto qualcuno che magari effettivamente sa più di me non è detto che mi stia portando una verità assoluta anzi di fatto non è mai così quindi nella comunicazione rientrano tantissime sfumature di questo tipo poi l'altra parola chiave è curiosità così come anche flessibilità versatilità l'apertura a un nuovo modo di pensare la capacità di andare a esplorare terreni che non si conoscono magari anzi prima ci spaventavano oppure non ci sono mai piaciuti non ci hanno mai attirato no quanto sono curioso è importantissima la curiosità perché ci salva sempre vi ricordate mago merlino no cosa dice nella spada nella roccia quando sei triste impara qualcosa di nuovo ma impara come va il mondo come funziona il mondo è veramente così la conoscenza ci salva il mito di chirone ce lo insegna anche no poi ci torno su questo ci rivitalizza imparare qualcosa di nuovo ci offre una nuova prospettiva ci offre una nuova motivazione ma ecco qui c'è un altro punto molto interessante secondo me del passaggio di giove in gemelli scusate io sono ancora un po' malaticcia sono sparita un po' anche perché ho avuto problemi di salute di vario genere tra cui a un certo punto anche questa forma strana che poi è diventata assimusita o le orecchie tappate ma penso che siamo in tanti conciati così e ancora appunto non sono a posto quindi faccio un po' fatica a parlare ecco dicevo uno dei passaggi interessanti uno dei significati interessanti di questo passaggio di giove in gemelli è proprio cosa ne faccio di questa conoscenza va bene scriversi ai corsi va bene essere curiosi va bene fare tante cose conoscere tante cose diverse ma la conoscenza non deve rimanere fine a se stessa non deve soddisfare l'ego non deve essere quel tipo di conoscenza certificata che poi ostenti per avere l'ammirazione degli altri la conoscenza collegata a mercurio non governatore del segno dei gemelli ecco interessantissimo che appena mercurio è entrato nel segno dei gemelli il giorno dopo ha fatto subito congiunzione a giove il 4 giugno giorno dello star point di venere che poi era ieri ma giove e mercurio si incontreranno una seconda volta l'8 giugno del 2025 quindi il giorno prima dell'uscita di giove dal segno dei gemelli praticamente all'inizio e alla fine del passaggio di giove in gemelli ci sarà la congiunzione esatta cioè c'è stata e ci sarà la congiunzione esatta di giove con mercurio che è il suo reggente quindi è proprio un processo è come se giove avesse chiamato sulla vetta dell'olimpo mercurio sapete che mercurio è l'unico tra gli dei che può viaggiare tra i mondi l'avesse convocato e gli avesse detto ok adesso vai e poi torna da me e riferiscimi tutto quello che hai visto tutto quello che hai incontrato tutto quello che hai conosciuto in realtà un incontro tra mercurio e giove di cosa parla? parla di trasformazione della conoscenza in saggezza quindi quello che dicevo cioè il fatto che il fatto che non si studia per dire mi sono laureato ho fatto il master oppure anche per raccogliere certificati diplomi eccetera eccetera non si studia per ostentare per farsi applaudire si studia per trovare un senso per dare un senso per dare un significato per trovare il significato di questa vita tra l'altro come dicevo il 4 giugno giorno della congiunzione tra giove e mercurio c'è stata anche la congiunzione tra sole e venere cioè lo star point di venere che è sempre un momento di riconnessione con il principio dell'abbondanza quindi quanto so scegliere le risorse che ho a disposizione quanto so attivare i miei talenti le mie risorse anteriore per metterle al servizio della vita e quindi generare abbondanza questo ha a che fare moltissimo con le relazioni lo ricordo ancora una volta abbondanza non ha niente a che fare con il denaro nel senso che non è che uno nell'abbondanza quando ha tanti soldi uno è nell'abbondanza quando è grato per ciò che ha e ha fede dal fatto che avrà sempre quello che gli serve nel momento in cui gli serve quindi questo accade quando quando io metto nel mondo e quindi porto all'interno di tutte le relazioni me stessa la mia essenza e non la maschera non il personaggio che ho costruito quel bisogno lì di riconoscimento che cerchiamo è quello del nostro bambino interiore della nostra bambina interiore è sempre quello che non abbiamo avuto da mamma e papà anche questo è un discorso che faccio spesso non abbiamo mai il riconoscimento che vorremmo da piccoli mai perché è una sorta di patto che si stipula con la vita funziona così siamo tutti alla ricerca di riconoscimento il punto è che se io mi costruisco un personaggio per piacere agli altri per fare quello che gli altri si aspettano da me o che io credo che si aspettino da me o quello che si aspettavano dai miei genitori mi costruisco un personaggio facendo quelle cose che sono considerate le cose giuste ecco come no proprio dobbiamo uscire da quest'idea di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ci hanno insegnato che nella vita si deve prima ottenere un titolo di studio avere un buon lavoro sposarsi fare dei figli avere una bella casa magari col giardinetto magari con la piscina il cagnolino il gattino la macchina la moto la barchetta eccetera eccetera no gli stereotipi i cosiddetti stereotipi se fai tutte queste cose allora sei felice però non è vero perché ci sono tantissime persone che hanno tutte queste cose e non sono affatto felici proprio perché hanno costruito un personaggio non hanno veramente ascoltato se stesse torniamo al discorso dell'ascolto di sé prima di tutto no e allora ecco che se anche io poi ottengo riconoscimento se anche io ricevo applausi vengo celebrata ma in realtà quelle celebrazioni quel riconoscimento quegli applausi quei complimenti non sono rivolti veramente a me a ciò che io sono ma sono rivolti al personaggio che mi sono costruita e quindi non funziona non funziona io continuerò a sentirmi rifiutata abbandonata continuerò a sentirmi esclusa quindi la curiosità il desiderio di conoscenza sono punti di partenza ma poi io devo dare un senso e devo portare quello che imparo nella mia quotidianità devo portarlo nelle mie dinamiche di relazione chiaro che con l'ingresso di Plutone in Aquario lo scambio di nuove idee la flessibilità questo grande movimento intellettuale mentale diventa importantissimo per tutta l'umanità e tutta questa tecnologia ci permette di comunicare anche con le persone lontane anche con le persone che non parlano la nostra lingua no? perché adesso con i traduttori si riesce comunque a bypassare un po' il problema certo sapere veramente una lingua è un'altra cosa ci permette di entrare in relazione in modo differente anche di poter approfondire i concetti in modo diverso però in ogni caso abbiamo accesso a molte più informazioni grazie ai traduttori grazie alla tecnologia no? rispetto a prima ed è meno problematico entrare in contatto con persone magari molto lontane molto diverse per lingua e per cultura però qual è l'obiettivo? ecco non dobbiamo perdere di vista Giove ci chiede questo non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo lo scambio di nuove idee l'acquisizione di nuove conoscenze eccetera ma poi le persone che incontro con cui posso scambiare idee ecco poi qual è l'obiettivo? quanto sono consapevole dell'obiettivo se c'è perché a volte non c'è l'altro punto l'altro punto di questo Giove è il cambio di prospettiva il cambio di prospettiva quanto riesco a guardare le cose da un altro punto di vista questo è interessante perché tutti quanti siamo siamo comunque molto condizionati da quello che abbiamo sempre sentito sempre visto sempre pensato e facciamo veramente fatica a guardare le cose da un altro punto di vista no? e mi fa sorridere perché l'altro giorno mi è successa una cosa molto molto carina molto molto curiosa l'ho scritta anche su facebook però magari alcuni non mi seguono anche su facebook perché secondo me è stato un episodio particolare che comunque mi ha fatto riflettere mi è piaciuto condividere questa riflessione lo faccio anche qui dovete sapere che io ho delle reti installate sui balconi per i gatti di protezione per i gatti però in uno dei balconi c'è un divisorio tra il mio balcone e quello del vicino che non arriva ovviamente diciamo al soffitto diciamo così al balcone sopra e quindi c'è uno spazio vuoto da qui spesso entrano i passerottini uccellini però poi trovano la via d'uscita e se ne vanno invece l'altro giorno è entrata una tortora che è un uccellino molto carino insomma non è un corvo non è magari un piccione la tortora è molto carina però è entrata e non riusciva più a uscire e continuava a sbattere contro queste reti che sono reti molto sottili tra l'altro l'ho fatta ristallare di recente è anche abbastanza costoso installare queste reti e quindi insomma lei continuava a sbattere contro questa rete poi ogni tanto si fermava si vede che era un po' stordita e confusa poverina ma non trovava la via d'uscita io panico panico totale perché beh innanzitutto perché sono io in un momento molto così in cui sono molto stanca molto stressata molto vulnerabile appunto non sono stata bene poi non è stata bene mia mamma mia mamma ancora in ospedale e quindi è tutta una situazione con i miei genitori che sono anziani e e sono anche un po' lontani da me quindi è tutta una gestione un pochino complicata insomma è un momento un po' un po' critico no? e quindi quando sei in un momento critico si è più fragile si è meno lucidi no? e quindi sono andata un po' nel panico e ho mosso Maria Monti ho chiamato il comune la provincia la SST la OSI di Sant'Alessio che c'è qui vicino una mia vicina persino ha contattato una dirigente della Lipu per cercare di capire se qualcuno poteva aiutarmi a liberare questa tortola perché dal mio punto di vista è questo che voglio sottolineare quelle reti installate da una persona che lo fa di lavoro io non riuscivo a a sganciarle non riuscivo ad aprire per fare per togliere la rete e poi rimettere la rete per me era impossibile fare questo ed era anche impossibile impensabile per me dal mio punto di vista uscire sul balcone prendere la tortola e liberarla in qualche modo da un'altra finestra e quindi c'è stato questo momento questo lungo momento di impasse fino a quando ho chiamato una mia amica veterinaria che è una persona speciale una persona che ha delle abilità di ascolto e di comunicazione quindi vedete che in questo episodio ci sono molti elementi interessanti e coerenti con questo passaggio di Gioven Gemelli che mi dice prima mi dice naturalmente guarda è successo anche a me anch'io le reti di protezione ma basta che sganci la rete e alzi un attimo poi rimetti a posto e dico no guarda che per come è installata questa rete io questa cosa non la posso fare cioè io non sono in grado di farla e lei mi dice guarda io non riesco a mandarti qualcuno anche perché lei non è vicinissima a me e quindi non so come fare vediamo se proprio non ce la fai poi dice questa frase magica a proposito di come si usano le parole dice questa frase magica e mi dice ma io sono sicura che tu troverai un modo e poi ti sentirai ancora più forte perché nonostante la stanchezza lo stress e la fragilità del momento sarai riuscita a fare anche questo e ha aggiunto anche vedrai come sarai felice quando la tortorella sarà libera e io quando ho scritto queste parole gli ho detto lo so hai ragione lo so che è così perché avrei potuto usare le stesse parole con qualcun altro io sono parole che uso molto spesso con le persone questo modo di comunicare fa parte delle abilità di counseling di coaching questa comunicazione che è proprio funzionale al far prendere contatto al proprio potenziale cioè tu non dai la soluzione all'altro ma lo accompagna a vedere che la risorsa è dentro di lui o di lei e quindi che la soluzione la può trovare da sola e mentre lei diceva queste parole improvvisamente mi sono resa conto di una cosa banalissima che avrei potuto vedere prima e cioè che nella parte bassa del balcone c'è invece installato una rete una di quelle reti normali che uno compra e mette sul proprio balcone quindi più spesse legate con le fascette e avrei potuto semplicemente tagliare quelle fascette sotto e alzare la rete certo dovevo superare due cose una la paura di stare sul balcone con la tortorella che magari cioè già mi vedevo nella avete presente no il capolavoro gli uccelli di Hitchcock che mi vedevano una situazione di questo tipo e l'altra era dovermi abbassare sulle ginocchia per fare questa manovra visto che avevo avuto seri problemi e ancora non risolti alle gambe alle ginocchia alle anche insomma quindi fare quella manovra fisicamente la vedevo difficile problematica per me e invece proprio rafforzata dalle parole magiche della mia amica io sono riuscita in pochissimi minuti a uscire sul balcone a rompere le fascette a alzare la rete mentre la tortorella se ne stava in un angolino immobile che mi osservava e dopo due minuti ha fatto come dei versettini di saluto e se ne è andata ed è effettivamente un episodio curioso anche banale se vogliamo no? però molto significativo per tutte le cose che vi ho detto quindi questo cambiare la prospettiva cioè io vedevo solo la rete della parte di sopra non vedevo che c'era la possibilità di liberare la tortura dalla parte inferiore del balcone quindi una grande lezione questa tortorella mi ha portato non è anche l'occasione così di condividere qualche riflessione perciò quanto è importante quanto è importante darsi il permesso di vedere le cose in modo diverso superare la paura l'ansia perché chiaramente ripeto se in un momento di vulnerabilità l'ansia e la paura bloccano ma questo succede a tutti in tantissime occasioni magari anche molto più importanti molto più impattanti sulla nostra vita il non vedere il non vedere una soluzione come la tortorella imprigionata sul balcone pure da lì è entrata e da lì poteva uscire ma lei non vedeva più quella via d'uscita e andava a sbattere contro quella rete e io vedevo solo la rete contro cui lei andava a sbattere non mi rendevo conto che c'era una rete anche sotto che potevo alzare quindi proprio un non vedere perché stai preso dall'ansia e dalla paura quindi immaginiamoci quelle situazioni in cui magari bisogna prendere delle decisioni importanti che riguardano la relazione che riguardano il lavoro che riguardano la gestione non so economica della famiglia i figli i genitori eccetera l'ansia e la paura ci bloccano e ci impediscono di vedere che c'è un'altra possibilità quindi l'importanza di rimanere centrati su di sé dello stare in ascolto e del avere fede anche avere fede questo è importantissimo la fede la fede nel piano divino la la fede nel senso che c'è in ogni cosa che accade e nelle nostre stesse risorse e questo ha molto a che fare col concetto di abbondanza che è rappresentato dallo star point di venere per esempio ma anche molto a che fare con Nettuno a 29 gradi dei pesci ultimo grado dello zodiaco il concetto di fede poi ovviamente c'è tutto c'è tutto un'ombra anche di quel Nettuno a 29 gradi dei pesci così come c'è un'ombra nello star point di venere in gemelli così come c'è un'ombra in giove nei gemelli che ha a che fare con l'inganno con l'autoinganno che ha a che fare con la dispersione con l'essere sopraffatti da tante informazioni da non saper discernere sempre perché non sappiamo sentire perché non sappiamo rimanere con ciò che c'è con ciò che sentiamo nel corpo allora a proposito di essere sopraffatti da mille informazioni torno un attimo allo star point di venere 4 giugno come dicevo il sole e venere si congiungono ogni nove mesi no? una volta si incontrano con venere diretta una volta con venere retrograda questa volta venere è la diretta è diretta lo stesso è stato ieri e è la metà del ciclo perché ogni ciclo dura otto anni l'ultimo star point di venere in gemelli è stato il 3 giugno del 2020 quando venere era retrograda quello è stato l'inizio del ciclo adesso siamo a metà allora cosa è successo nel 2020 prova a chiedertelo tu nella tua vita anche e soprattutto nelle relazioni cosa hai imparato che tipo di scambi ci sono stati è stato per tutto un anno molto particolare 2020 in cui tra l'altro siamo stati tenuti separati lontani in cui si sono sviluppate anche tantissime nuove abitudini proprio grazie anche alla tecnologia per ricreare una connessione quindi nel 2020 abbiamo iniziato a fare dirette a lavorare molto via zoom o con altre piattaforme di questo tipo e come ho già detto altre volte non è un caso che la pandemia sia arrivata in un momento in cui l'umanità aveva a disposizione la tecnologia pensate se fosse arrivata prima in questo momento ovviamente ce ne sono state altre e non c'era questa possibilità ma in questo momento in questo periodo è accaduto questo perché perché comunque era ora per l'umanità di prendere contatto con altre possibilità e e darsi altre possibilità e aumentare le possibilità di scambio e allargare appunto i propri orizzonti quindi quindi anche anche prendere consapevolezza del fatto che esiste un tipo di connessione che va al di là della vicinanza fisica e del contatto diretto perché lo ricordo internet è lo stesso archetipo dell'etere della cassa a qualcuno non piace quando dico questa cosa ma così è non è una mia opinione è proprio che l'archetipo è lo stesso si tratta di un archivio si tratta di un archivio virtuale quindi esattamente come la cassa l'etere così è internet è un archivio virtuale e l'archetipo corrispondente in astrologia è urano quindi l'umanità era pronta per comprendere che ci può essere uno scambio e ci può essere una connessione anche nell'invisibile quindi con tutte le ombre che possiamo vedere in questo con tutti i limiti che possiamo trovare giustamente anche nell'uso della tecnologia in internet resta il fatto che però ci dà anche tantissime possibilità in più e ci aiuta in moltissime occasioni ecco quindi se vogliamo percorrere la strada dell'evoluzione è inutile che continuiamo a protestare contro la tecnologia in una maniera anche un pochino puerile no perché sì certo che ha i suoi limiti certo che ha i suoi pericoli ma come tantissime altre cose è uno strumento in mano all'uomo e quindi dipende dalla qualità dell'umano non dipende dallo strumento in sé a me fa sorridere ci sono persone che vanno al ristorante si indignano e non vogliono usare il QR code per leggere il menu ragazzi allora stiamo nelle caverne e ci mettiamo lì e proviamo ancora ad accendere il fuoco insomma si va avanti si va avanti e il cambiamento va colto tu non puoi pensare di cambiare il mondo non puoi pensare di protestare contro tutto ciò che c'è e poi non sai accettare questi cambiamenti no bisogna ecco anche qui bisogna cambiare la prospettiva bisogna cambiare il punto di vista bisogna spostarsi ecco giove ha a che fare anche giove scusate i gemelli hanno a che fare anche con lo spostamento con il movimento perché Mercurio è quello che si muove che va insomma in tutti a tutti i livelli si muove a vari livelli e questo spostamento ha a che fare soprattutto con mi sposto da dove sono cioè mi sono inchiodato in questa situazione perché qui è comoda sono abituato a questo conosco questo mi sono adattato e da qui non mi sposto ecco invece spostarsi vuol dire prima di tutto questo vuol dire proprio lasciare la zona comoda e questo è difficile per tutti noi è inutile è inutile che ce la raccontiamo a proposito del non cadere nell'inganno ecco quindi il discorso dello di venere stavo dicendo rappresenta un processo di cambiamento delle idee degli scambi degli spostamenti ha a che fare con anche con cambiamento come dicevamo prima nella comunicazione nell'ascolto dell'altro e anche in cosa scelgo cosa scelgo allora interessante dicevo osservate cosa è successo nel 2020 giugno 2020 cosa avete imparato dalle relazioni nel 2020 e adesso che cosa è cambiato o che cosa come siete cambiati all'interno di certe dinamiche ma l'altra l'altra parola chiave dei gemelli è la scelta scelta quindi chi scelgo lo dicevamo prima no chi scelgo di avere al mio fianco con chi scelgo di essere in connessione con chi scelgo di essere in relazione questo a vari livelli può essere la persona con cui collaboro può essere il mio partner può essere l'amico può essere l'insegnante però ecco molto molto importante questo discorso della scelta altro concetto legato ai gemelli ovviamente sono i rapporti con i fratelli i rapporti fra pari quindi amici vicini di casa colleghi eccetera ma i fratelli in particolare io che lavoro tanto con la psicogeneologia ascolto moltissime storia di famiglia mi rendo conto che i rapporti tra i fratelli sono quelli più particolari e a volte si dà molta più attenzione ai rapporti coi genitori ma anche i rapporti coi fratelli sono spesso critici spesso non c'è vera comunicazione tra fratelli oppure al contrario ci sono rapporti morbosi tra fratelli soprattutto tra sorelle a volte c'è rivalità a volte invece c'è proprio un condizionamento reciproco un'interferenza anche no della sorella nel rapporto matrimoniale dell'altra oppure la sorella che decide di sposarsi avere figli perché la sua sorella già è sposata e ha figli e così facendo fa una scelta magari non autentica insomma i rapporti fra fratelli sono davvero particolari e questo può essere un periodo il transito di giovi ingemelli in cui si impara a stare in relazione con i fratelli in maniera diversa quindi magari c'è la possibilità di comunicare tra fratelli a un livello diverso di entrare in relazione in maniera più autentica e profonda allora mi ero segnato alcune cose rispetto ai vari passaggi di giove i vari aspetti che fa nell'anno però siccome appunto non vorrei essere troppo tecnica ecco però c'è c'è una un un aspetto che giove fa e lo fa tra settembre e novembre e tra fine aprile e maggio 2025 che è il se stile con Chirone e questo lo vorrei proprio commentare perché non sapete abbiamo moltissimo il mito di Chirone Chirone che rappresenta il luogo del dolore quello che spesso non vogliamo contattare rappresenta le nostre ferite ecco giove è quello che nel mito libera Chirone no vi ricordate Chirone che viene abbandonato rifiutato da entrambi i genitori alla nascita che poi si rifugia nella conoscenza perché cerca un modo per superare questo dolore poi verrà ferito accidentalmente con una freccia avvelenata non si può guarire da da una ferita di questo tipo perché la freccia è stata intinta nel veleno dell'idra e per cercare di guarire dalle sue ferite acquisisce moltissima conoscenza conoscenza che però non rimane fine a se stessa ma viene messa al servizio degli altri proprio grazie alla compassione Chirone poi diventerà anche un grande medico oltre che mentore tutore di tanti eroi greci e passa questa conoscenza agli altri questa conoscenza diventa saggezza ed è Giove che lo libererà da questo dolore accettando di scambiare la sua immortalità con con Prometeo con quella di Prometeo con la mortalità di Prometeo cioè sapete che Prometeo era stato condannato per aver rubato il fuoco agli dèi averlo donato agli uomini e si trovava legato a una rupe e sottoposto a questo supplizio dell'aquila che gli mangiava il fegato e poi il fegato si ricostruiva di notte eccetera eccetera bene Giove accetta quindi di fare questo scambio e quindi Chirone diventa mortale può finalmente attraverso la morte liberarsi di questo dolore e diventerà poi mortale nella costellazione del Sagittario ecco se stile Giove Chirone cosa devo far morire di me perché questa morte di Chirone nel mito corrisponde alla morte di una parte di noi alla quale ci attacchiamo perché ci dà una forma di sicurezza ma in realtà io devo far morire qualcosa di me per dare un senso al mio dolore per cui è proprio la riflessione importante da fare è tutta la conoscenza teorica che io posso accumulare con dieci miliardi di lauree o di corsi di qualsiasi tipo non ha niente a che fare con poi la capacità di accettare il mio destino e quindi dare un senso al mio dolore attenzione anche al corpo che fa resistenza che fa resistenza perché soffre il corpo soffre perché noi facciamo resistenza e non riusciamo ad accogliere il cambiamento quindi il corpo poi si fa testimone di questi processi a volte a volte la sofferenza nel corpo la cosiddetta malattia in realtà la malattia è sempre qualcosa di molto sensato molto sensato come ci ha insegnato la medicina la nuova medicina germanica le cinque leggi biologiche è un processo sensato la malattia è un modo che il corpo trova per liberarsi di un conflitto per risolvere un conflitto ecco questa è una cosa su cui io vorrei davvero concentrarmi molto più che su certi passaggi astrologici e andando avanti credo che affronterò sempre più spesso questo tipo di argomento perché davvero io stessa in questo periodo in cui ho avuto problemi fisici in realtà ho vissuto per l'ennesima volta un processo di presa di coscienza importantissimo quindi il dolore fisico è davvero un'occasione molte volte l'arma cosiddetta malattia è un'occasione di risoluzione è una manifestazione di risoluzione di un conflitto quando prendiamo coscienza di qualcosa e portiamo fuori da una zona oscura qualcosa che fino a quel momento non abbiamo voluto o potuto vedere ecco quindi dobbiamo veramente uscire dai nostri dalle nostre dinamiche automatiche che sono quelle che conosciamo da sempre quelle che inconsciamente abbiamo imparato a mettere a mettere in atto e quindi uscire da questi automatismi per per riuscire a guardare le cose da un'altra prospettiva tra l'altro tra l'altro qui mi sono segnata un po' di cose ma mi perdo appunto in tutte queste milioni di informazioni ecco no tra l'altro due parole sulla luna sulla luna nuova del 6 giugno la lunazione che vede uno stel nutrito in gemelli dove sole luna e venere sono congiunti a 16 gradi dei gemelli quindi una lunazione come dicevo prima molto vicino allo star point di venere ci sono due momenti molto forti che segnano che danno un po' un'impronta a tutto questo passaggio di giove in gemelli cosa hanno in comune che questa venere questo star point di venere così come la luna nuova sono quadrate a saturno e questo è importantissimo come la vedo io a proposito di non c'è la verità quindi la mia interpretazione può essere che non sia quella di molti altri però normalmente si vede il segno dei gemelli come un segno di leggerezza di gioia di divertimento di distrazione il fanciullino che gioca appunto tutto questo stile in gemelli potrebbe farci pensare che quindi sia un momento di alleggerimento onestamente io non la vedo proprio così proprio perché c'è questa quadratura saturno che ci chiede impegno che dice cerca di mantenere la parola data cioè se dici una cosa fa in modo di essere coerente con quello che dici ma non coerente perché la coerenza non è sempre una cosa positiva no l'abbiamo detto a proposito di flessibilità eccetera però insomma se fai una scelta ecco visto che parliamo di scelta nel senso dei gemelli primo stai in ascolto di te perché è importante questa questa quadratura è stata un'empesci vedo di spiegarmi meglio perché con tutta questa aria nel cielo rischiamo di perderci nel mentale no quindi le idee le parole un po' quello che dicevo prima quel raccontarsela quel continuare a ripetersi quella quell'auto ingannarsi ma io sono così ma io faccio così ma io adesso ho visto questo ma io adesso ho capito quest'altro e poi in realtà magari non hai capito o comunque il punto non è capire ma il punto è sentire ecco questa quadratura di Saturno in pesci è proprio un invito a non perdere di vista il contatto col proprio sentire con la propria percezione Saturno è sempre un principio di realtà quindi non te la raccontare ascoltati perché se ti ascolti tu sai veramente qual è la tua la tua decisione qual è la direzione che vuoi prendere e una volta che l'hai presa mettici impegno perché le cose non accadono così magicamente questo è un po' anche il discorso di Nettuno a 29 gradi dei pesci dove lì abbiamo da una parte la possibilità di sentire veramente la connessione con il tutto sentire che niente riguarda solo noi che non esiste sono fatti miei sono fatti tuoi perché tutto ciò che facciamo muove un'energia che riguarda tutti la fisica quantistica questo ce lo sta insegnando molto bene quindi non esiste non esiste il sono fatti miei io di questo non voglio parlare ecco questo mi porta anche un po' qui questo discorso molte persone che non amano condividere non amano parlare di come si sentono di quello che stanno vivendo che anche chi è in un cammino che sta facendo magari dei percorsi fa fatica a condividere il proprio vissuto a paura del giudizio degli altri ecco Nettuno che chiude il suo percorso di tutto lo zodia conoscerlo dai pesci e che segna poi col passaggio in ariete proprio un cambio epocale proprio di era e qui vorrei andare oltre quel discorso del no ma la nuova era inizia ma non ci interessa ragazzi cioè è un come dire è una fase di passaggio cioè come dire che giorno sei diventato adulto non è che c'è un giorno è un processo è la stessa cosa quindi al di là di questo siamo proprio nel passaggio un passaggio epocale ecco questa è una delle interpretazioni no questo Nettuno in pesci ci porta a questa connessione a sentire che siamo veramente lì tutti per uno e uno per tutti ma dall'altra parte c'è tutto un discorso sull'ingannarsi sul sogno sul pensare che ah sì ho aperto i chakra ho parlato con l'arcangelo Michele quindi adesso va tutto bene adesso arrivano gli alieni e ci salvano che per carità io non sto dicendo che tutte queste cose non abbiano un senso però senza il principio di realtà e senza un viaggio verso se stessi dentro se stessi e senza lo studio e la conoscenza rimangono inconsistenti rimangono illusioni rimangono autoinganni non vai veramente a toccare il tuo nucleo di dolore non vai veramente nella tua zona buia a toccare le tue paure più oscure i tuoi tabù a proposito di paure oscure l'altro aspetto interessante della lunazione è la quadratura Marte-Plutone Marte è ancora in arriete ma è lì la quadratura con Plutone si è già formata e si prepara poi Marte a passare il segno del toro dove ci sarà l'aspetto esatto tra poco ma ecco questa quadratura Marte-Plutone ragazzi ecco è bella potente è bella potente quindi è proprio una grande spinta è proprio della serie rompi 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 questo questo circuito del mi continuo a raccontare queste cose qua perché tutto sommato ci sto ci sto comodo mi sento sicuro e dice se vuoi andare avanti Marte se vuoi andare avanti è un Marte fra l'altro che risponde a Venere perché Marte è in toro poi quando passa nel toro Marte è in toro risponde a Venere ma Marte risponde sempre a Venere perché se Venere ci dice cosa mi piace cosa vorrei cosa desidero quale risorso ho a disposizione eccetera Marte Marte mette l'azione quindi Venere senza Marte non va da nessuna parte e questo ci dovrebbe far riflettere su tante tante cose ma adesso qui il video sta diventando troppo lungo va bene che è un po' che non faccio video ma forse adesso è un po' troppo lungo adesso lo chiudo ma proprio con questa riflessione sulla quadratura Marte-Plutone ecco no quindi se vuoi andare avanti devi andare a vedere quali sono le tue paure i tuoi tabù le tue convinzioni tipo se esci su balcone c'è la tortora che ti aggredisce tipo c'è l'Ishkog oppure tipo oh non lo so appunto posso sollevare solo la rete superiore la rete inferiore non la vedo neanche per tornare all'esempio di prima guardatene queste paure ovviamente stiamo parlando di paure molto molto recondite di paure inconscie insomma questo viaggio nell'inconscio va fatto va fatto e non basta affidarsi ai sogni alle illusioni alle magie ecco perché vuol dire anche costruirsi poi tutto tutto un mondo che in realtà non c'è che in realtà non c'è e che ci porta lontano da noi stessi quindi ribadisco questa questa quadratura con Saturno dell'allunazione e la quadratura Marte Plutone mi fanno pensare che non ci sarà più tanta leggerezza nonostante l'enfasi del sieno dei gemelli perché dobbiamo cercare veramente di restare centrati di restare centrati ecco forse forse può essere che un pochino l'aria si sia alleggerita e forse possiamo più facilmente trovare quella centratura però però c'è sempre il discorso della dualità dei gemelli quindi sto di qui o sto di lì quale scelta faccio come scelgo devo ascoltarmi poi dall'altro lato c'è il discorso dell'avere forse anche troppe troppe possibilità del ascoltare troppe voci dell'essere bombardato da troppe informazioni e quindi l'importanza del discernimento l'importanza del discernimento questo il contatto Giove-Mercurio la quadratura Saturno ci invitano a questo bene direi innamoriamoci della conoscenza quindi cerchiamo di non essere superficiali perché la conoscenza è la strada per la saggezza e non c'è spiritualità senza conoscenza ecco chiudo con questo che risponde anche a un commento vi ricordate probabilmente e se non l'avete visto guardatelo perché è stato bellissimo il video che abbiamo fatto con Nausicaa Capriotti e con Drusilla Angelotti sul 9 luglio del mese scorso abbiamo parlato dell'importanza della conoscenza dell'importanza dello studio studiare perché se voglio lavorare nella relazione di aiuto nell'ambito olistico spirituale chiamiamolo così è importantissimo che io studi e che io faccia un lavoro su di me quindi la psicoterapia come passaggio fondamentale se voglio essere veramente di aiuto agli altri questo proprio lo dico per chi vuole entrare nella relazione di aiuto ci sono tante persone che vogliono fare qualcosa per gli altri è importante essere un po' strutturati insomma fare questo viaggio dentro di sé avevo pubblicato uno short quindi un estratto di quel video e qualcuno ha commentato ma la spiritualità non c'entra con la conoscenza non bisogna studiare per essere spirituali la spiritualità è qualcosa che riguarda appunto la connessione con la propria anima verissimo assolutamente verissimo ma ripeto è importante studiare poi probabilmente la persona che ha commentato non ha ascoltato tutto il video ha sentito solo quel pezzettino ha fatto questo commento sono d'accordo che la spiritualità ha qualcosa che ha a che fare con la connessione con la propria anima ci mancherebbe è proprio così certo però ripeto c'è troppa spiritualità inconsistente e puerile del verrà qualcuno a salvarmi ecco mi rivolgo all'invisibile l'invisibile che poi può essere l'arcangelo Michele il mio il mio defunto parente oppure non lo so gli unicorni o chiunque altro verrà a salvarmi non funziona così non funziona così questa è una visione ripeto molto puerile e inconsistente quindi abbiamo bisogno invece di studiare studiare le dinamiche psicologiche studiare la comunicazione l'ascolto attivo e comprensivo insomma acquisire delle competenze questo vale per gli operatori ovviamente ma poi in realtà ci sono anche tante persone che fanno questi tipi di corsi per se stesse per crescita personale ecco io credo che veramente se questo mondo deve evolvere deve cambiare deve andare verso un livello di coscienza più alto ha bisogno di sempre più persone che fanno un percorso di crescita personale e imparano che cos'è l'ascolto e che cos'è la comunicazione quella efficace empatica ora vi saluto vi ringrazio e speriamo di vederci presto vi ricordo il seminario di costellazioni del 23 giugno e un abbraccio grandissimo a tutti e grazie anche a tutti coloro che mi hanno scritto che mi hanno mandato dei messaggi sapendo che non stavo bene che c'era la mia mamma che non stava bene e tuttora è in ospedale quindi grazie a tutti per la vostra vicinanza un abbraccio grandissimo grazie a tutti